Benvenuti in questo mio nuovo video Oggi riassumeremo un po' tutti i leaks Che sono stati trovati in questi giorni Dentro i file di gioco E vedremo anche cosa sta facendo il cubo Che è arrivato all'ultima runa Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale Lasciarmi un mi piace, commentare e condividere Passiamo alla prima immagine Guardate un po' Dentro il file di gioco Nella sezione dei velicoli E' stato trovato un nuovo velicolo appunto Si chiama antilope Non abbiamo ancora nessun dato e nessuna immagine In futuro ci possiamo aspettare questo velicolo La prossima immagine sempre trovata nei file di gioco Sono delle nuove opzioni personalizzabili Nella modalità parco giochi Ad esempio il fuoco amico Aumentare la velocità di movimento I danni doppi Bottino scarso Molto bottino O il bottino regolare E molte altre cose Adesso parliamo del cubo Il cubo è arrivato all'ultima runa E come potete vedere in questa immagine Per me il cubo sta prendendo energia da tutte queste rune Si può vedere che il cubo è più attivo In queste ore Guardate cosa stanno facendo invece le altre rune Praticamente hanno incominciato a muoversi Si pensa che stiano andando verso il cubo Per poi fare un evento finale Che ci dovrebbe essere in questi giorni Ok il video finisce qua Questi erano i leaks Spero che vi sia piaciuto Anche se il video è breve Mi raccomando iscrivetevi al canale Lasciate un bel mi piace Condividete e commentate Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragasuoli Noi ci vediamo in un prossimo video